Il primo! Usiamo chi sparse per primo! Il primo! No, mamma mia, mamma mia! 19 agosto, grossa mirata, grossa motor show! Ancora fuori in sequenza, guardia adesso! Guardia il numero, sono a prima! E' un piccolo che ci ha detto, guardia che sono sui stai! Uno, due, tre, BOLGIO! Grazie sicuramente, farà il salto con cui ha vinto il mondiale, farà l'inchiusura! Arribano ancora Stanka! Arribano ancora! E' un esempio Libor, farà l'inchiusura prima! No! Guarda! No! Io ho fatto il bambino! Io ho fatto il bambino! Io ho fatto un altro spesso! Praticamente le stesse figure facce davanti, Libor le ha rinforzate! Ma testa in giù! Fate ripetire la voce di Grosso Motor Show! Non è ancora finita! Ragazzi, quando si riparà questo Grosso Motor Show, gli sponsor, quelli che non hanno venito, che non facessero distilarci, e quando vi portiamo qualcosa, te la portiamo veramente tosca! Arrivano ancora le scariche! Ehi, finca! Ai ai ai, questo è grosso! Questo è grossissimo! È da mondiale! Io sono io! Io sono io! No, 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 lui dice che non faccio da bene! Signore, praticamente, si fa fare a testa in giù, prendendo uno scherzo con i piedi! Dove che gli sentirei la voce! Questa voce è veramente decisiva! Sì, con la musica! un'esperienza Pinkertonemos ancora! Cuore! C'è nulla! Ma, 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 ma! Ma, 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 ma. Ma, ma, ma! Sì, con il suo, io, 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 io! David сохerzo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!